buongiorno a tutti secondo video di nottata perché così lo vedete nella giornata di venerdì perché è importante perché dopo aver parlato appunto di europa league di quello che è successo ripartono le schedine bollettine del gigione per quanto riguarda i campionati italiani ed esteri quindi partiamo subito con gli anticipi di questa sera campionato spagnolo campionato francese campionato inglese campionato tedesco quindi ce n'è per tutti i gusti prima sponsorizzazione sponsorizzazione per il pronosticatore folle e le sue schedine appunto folli ma però redditizi perché quando si prendono ah e lì c'è proprio il godimento il godimento perché sono sono soldini ecco sono soldini lui le schede le schede le i suoi pocherini le sue cose eccetera le fa per prendere bene e le fa con cognizione di causa poi purtroppo succedono i disastri come è successo in europa league e lì non c'è non te lo aspetti pronosti e poi sponsorizzazione per interista dentro un mio amico il mio collega nerazzurro che si occupa solo ed esclusivamente del campionato italiano con delle propostine secche i risultati secondo lui che saltano fuori per le nove partite di serie a lui l'inter non la pronostica mai e infine mi sponsorizzo io lunedì sera l'appuntamento con la diretta parleremo ancora del coronavirus visto che è andata bene settimana scorsa parleremo anche di quello oltre che del campionato italiano perché quello è scontato c'è per di più la partita delle partite il derby d'italia detto questo volano i fogli come se piovesse andiamo a vedere le quattro partite i quattro anticipi delle campionati europei partite di libidine belle toste real sociedade balladolid 1 nils marsiglia 2 dusertor berlino 1 norwich leicester 2 con 5 euro 68 euro e 81 tutte partite belle toste l'unica forse scontata tra virgolette e real sociedade balladolid perché anche normic leicester potrebbe essere scontata ma non si sa mai mentre le altre due potrebbero essere scontate ma non si sa mai soprattutto dunsseldorferta berlino si affrontano la sedicesima contro la quattordicesima se non ho visto male comunque ci sono due squadre in basse nei bassi fondi e c'è una e due posizioni avanti all'altra e quella dietro gioca in casa e si gioca la salvezza sedicesima contro quattordicesima la cosa così quindi da dentro fuori ecco per intenderci veniamo alla schedina alternativa real sociedade balladolid 1 nils marsiglia is 2 norwich leicester is 2 e dusertorferta berlino 1x con 5 euro 16 euro virgola 0 2 per i più coraggiosi se uno vuole rischiare norwich leicester 2 secco quindi mettere real sociedade 1 norwich leicester 2 secco nils marsiglia is 2 e dusertorferta 1x se ne vincono 23 e 29 è a vostra discrezione fare tre doppie e una singola o due doppie e due singole terza bollettina doppia chance più over real sociedade balladolid 1x più over nils marsiglia is 2 più over dusertorferta 1x più over norwich leicester x2 più over con 5 euro 31 euro e 49 mi fa già libidine quarta bollettina quella che mi piace che spesso prendo e mi salva diciamo che dico almeno una l'ho presa gol casa gol ospite real sociedade balladolid gol ospite sì nils marsiglia gol casa sì dusertorferta berlino gol ospite sì norwich leicester gol casa sì con 5 euro 19 euro e 80 quinta bollettina real sociedade balladolid gol più over nils marsiglia gol più over dusertorferta berlino gol più over e norwich leicester gol più over allora per quanto riguarda real sociedade balladolid il gol più over e il no gol più under sono più o meno alla pari c'è una differenza a favore del no gol più under di 0,05 quindi il nulla più totale nils marsiglia hanno gol più under è pagato un po meno quindi è favorito però siamo nell'ambito del gol più over a 3 no gol più under a 3 a 2 65 quindi 035 di differenza dusertorferta berlino è favorito il gol più over norwich leicester è favorito il gol più over con cinque euro di questi quattro gol più over invece se ne vincono 120,09 però io vi ho dato i parametri che ci sono infine il combo quello che ormai sapete non metto più l'over ma metto solo uno più gol o due più gol eccetera eccetera real sociedade balladolid uno più gol miss marsiglia due più gol dusertorferta berlino uno più gol e norwich leicester due più gol con due euro se ne vincono 463,58 con 5 euro 1158,96 visto e considerato che real sociedade balladolid nils marsiglia e dusertorferta berlino non sono favoriti i gol quindi l'uno più gol il due più gol e l'uno più gol non è favorito rispetto al uno più no gol due più no gol e uno più no gol l'ho fatta anche con il no gol quindi real sociedade balladolid uno più no gol miss marsiglia due più no gol dusterorferta berlino uno più no gol e infine norwich leicester lasciamo due più gol con due euro se ne vincono 200,63 con 5 euro 501,59 lì naturalmente nella vostra discrezione come vi dico sempre su questa schedina ultima bollettina ultima non giocatevi più di due euro perché è difficilissima sulle altre diciamo almeno le prime tre qualche chancettina ci sono soprattutto la seconda la terza e la quarta la doppia chance la doppia chance più over e il gol casa gol ospite quelle di solito sono le tre bollettine che prendo più spesso quella con le fisse ogni tanto la prendo e paga anche bene ma non sempre le ultime due capita raramente però vedete le cifre quindi prenderla anche solo una volta sono soldi detto questo usate sempre la vostra testa se vi piacciono le mie proposte giocatele se non vi piacciono fate l'opposto che magari vi conviene di più poi al massimo direte cacchio c'aveva ragione il gigione detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao